Abbiamo lavorato bene, abbiamo programmato e nel 2023 abbiamo ottenuto questo grande successo di 1.350.000 visite. Però io mi sono anche posto un limite, perché non è che possiamo arrivare a 2 milioni di... Non c'è la ricettività, non ci sono gli alberghi ancora pronti per ricevere cosa, ma soprattutto bisogna tarare questo flusso e non superare certi limiti. Questo è stato il tema che abbiamo affrontato. La mia volontà è quella di non superare evidentemente certi numeri, perché sarebbero impraticabili, e di affrontare invece alcune questioni che stanno a cuore di tutti i cittadini, prima di tutto quello dei parcheggi. Avrò una riunione la prossima settimana con l'Ing. Bernetti, perché voglio proporre alcune cose che riguardano sia soprattutto l'accoglienza delle scolaresche, perché delle scolaresche ne abbiamo veramente tantissime, quindi dobbiamo trovare non solo un'accoglienza da parte della città in generale, ma anche e soprattutto spazio per vivere tranquillamente. E quindi questo è un problema. Poi c'è il problema, indubbiamente, delle crociere. Le crociere impegnano le rive, le crociere sono senz'altro qualcosa di positivo per l'economia della città, soprattutto del porto, ma anche l'attività crociaristica va regolamentata rispetto a quelli che sono le esigenze della città. Noi andiamo, diciamo così, a girare quella che è stata la boa di un percorso che nel 2024 è il suo picco, nel 2024 è l'anno in corso, con queste mostre che stiamo facendo, con i concetti che abbiamo, bene e nel male, portato qua a Trieste il 2-9 giugno e che alla fin fine sono dei indicatori su quei limiti massimi che noi possiamo, in qualche modo, tra virgolette, diciamo così, sopportare e supportare.